Siamo oggi all'abbazia di Lacoc, si chiama Lacoc Abbey, che come dice il nome è nata come abbazia e poi è stata usata come residenza, ma è molto famosa oggi perché è stata utilizzata come set per diversi film, proprio come il villaggio di Lacoc, che poi vi mostriamo in immagini. All'interno di questa abbazia sono state girate alcune scene dei primi film di Harry Potter, quindi per noi oggi questa abbazia diventa un po' il castello di Hogwarts. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. E' l'altra architettura. E questo invece è il famoso Royal Crescent di Bath. Giro completo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.